Psst, pare! Dimmi! La vorresti una bacca? Certo, dove sono? Allora, hanno messo un nuovo aggiornamento che permette di fare i cispugli di bacche e di mangiarli! Oh che buoni! Quindi oggi dobbiamo creare una coltivazione di bacche incredibili e mangiamo con una cena a son di bacche! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki e io sono Steph e questo è un colonist survival! E siamo tornati qua con un nuovo fantastico aggiornamento in cui hanno aggiunto diverse cose, tra cui le bacche e Steph sta già ballando! Esatto, no, allora io sono felice perché speravo che aggiornassero questo gioco, avevo paura che fosse uno di quei giochi che non aggiornano e invece lo hanno aggiornato! E l'hanno aggiornato in maniera interessante perché hanno aggiunto prima di tutto le bacche, che particolarità hanno, Fer? Secondo te perché le hanno aggiunte? Dai, sentiamo la tua teoria perché... Perché sono buone! No, Fer! Praticamente all'inizio è presente che tu devi fare il grano, ma non è che cresce ogni giorno, cresce ogni due giorni! E infatti muoiono di fame i nostri stiavi! Bravissima! Per togliere questo problema hanno messo le bacche che danno poco cibo, però sono istantanee, quindi non ti fanno aspettare le giornate, quindi riesci a gestire meglio all'inizio il regno! Quindi è una cosa iniziale, ma siccome a noi piacciono, non ce ne frega nulla e le facciamo lo stesso perché vogliamo mangiare le bacche oltre al pane! Mangiamo sempre sto pane e vogliamo anche le bacche! Ok, come si fanno le bacche? No, Fer? Ma si trovano in giro? Andiamo in giro a cercarle? No, Fer? Come no? No, non funziona così! Ma io volevo dire un attimino che c'è una seconda cosa molto importante! Ok! Ci hanno reso più complicato come mangiare il pane! Ok, perché qua hanno fatto, dai, li mettiamo le bacche e li complichiamo come si mangia il pane! Adesso dobbiamo rendere il grano farina e dopodiché la farina pane! È anche più giusto, sì! È più giusto, però c'è un processo in più e quindi ti presento lo schiavetto che lavora la farina! Eccolo! Ciao schiavo della farina! Che carino che sei! Per fare le bacche abbiamo bisogno di creare il negozio! Ok! Sapevi che c'è il negozio nel gioco? Sì, no, certo! Lo so, ma non l'ho mai creato! Allora, per creare il negozio ci servono le monette d'oro! Quindi, sicuramente, noi dobbiamo andare a prendere dell'oro in miniera! Dobbiamo rapi... Ah, no! Pensavo dovessimo rapinare gli schiavi! E io ho detto, dai, leviamo i soldi con cui li paghiamo dalle tasche e creiamo il negozio, no? Sei scandalosa, punto uno! Punto due, neanche li paghiamo, sti poveretti! Mangiano, dormono e basta! Li paghiamo con tanto affetto e tanti complimenti nostri e dei consolini! Sì! Scusa, l'amore mi stai dicendo che non è un buon motivo per vivere e lavorare! Allora, quindi, stavo dicendo che dobbiamo andare a prendere un po' di oro in miniera! Dopodiché dobbiamo mettere al tizio che lavora al ferro, quindi lo schiavetto del ferro! E dobbiamo dire, ehi schiavetto, non lavorare più al ferro! Lavora un attimo a farci le monette d'oro! A quel punto creiamo il negozio, mettiamo uno schiavetto che lavora al negozio e teoricamente compriamo le bacche e quindi teoricamente abbiamo un nuovo cibo! Eh, che passaggio stralungo! Io pensavo nascessero naturalmente! Ah, e Ferre ti è dimenticata di fare la seconda torre, quindi nei commenti scrivete Ferre e ti dimentichi tutto! Allora, se proprio dobbiamo dire le cose come stanno, me ne sono dimenticata di farne tre perché bisogna fare tutto il perimetro se proprio vogliamo criticare qualcosa! Ok! Il fatto è che ho fatto la terza casa per gli schiavetti che, vabbè, non ve la faccio vedere ora perché è tanto uguale, le altre due le abbiamo fatte per i denti! E ti ha preso tempo e quindi poi ti sei dimenticata! E mi sono dimenticata perché poi ho giocato un sacco a GTI e mi sono dimenticata dei miei schiavetti, capito? Sì, perché è gelosa delle cose che mi sono prese e quindi cerca di prendere altre tante leie! No, sto cercando di farmare per farmi sogli e avere anche le cose belle, capito? Stiamo nerdando malissimo! Cioè, la notte stiamo andando a dormire alle due e ci svegliamo alle otto, è una vita difficile! Problemi degli youtuber! Esatto, esatto, è una vita davvero difficile! Per raccogliendolo! E la Ion non dà una mano perché ogni volta inizia ad ammazzarci, iniziamo ad ammazzarlo e perdiamo tempo! Iniziano le faide tra il nostro e il tuo canale! Quindi, capito? Vabbè, cose che capitano, vai! Allora, ho preso già, fammi vedere un pochettino, dovrebbero essere gold ore! Ok, ne abbiamo sei, quindi teoricamente se noi adesso andiamo dallo schiavetto che lavora il ferro, e li facciamo a schiavetto, basta, smettiti di fare il ferro, lui teoricamente inizia a fare l'oro, ci crea le monetine e creiamo lo shop! Però, Fere, dobbiamo decidere dove mettere i nuovi schiavetti! Perché qua abbiamo bisogno anche di espandersi, non possiamo rimanere 30 schiavetti per sempre! Ce l'ho al posto! Vai! Mi è venuta l'idea bellissima, vieni! Vieni! Ti seguo! Qui dentro! Dov'è? Qui dentro! Dentro dov'è? Qui sotto! Qua? Nel fossato, Fere! Sì, gli metti i letti là! Fere! No, non va bene! Vacci tu nel fossato, così mi lasci finalmente in pace! Allora, scherzi a parte, visto che abbiamo abbastanza finito lo spazio all'interno delle nostre mura, stavo pensando di costruirne delle altre, però anziché buttare tutto giù, volevo fare il regno a sezioni, capito? Quindi fare... Che stai facendo che mi stai interrompendo, scusami? No, io non l'ho parlato, stavo comunicando con i consolini con lo sguardo, però guarda, l'ho messo a lavorare loro, quindi ha funzionato! Allora, seguimi, vieni, così lo facciamo vedere bene! Allora, da qui in poi, facciamo partire delle altre mura verso qua, magari leviamo un po' di alberi, capito? E continuiamo a espandere il nostro regno, però questo non lo buttiamo giù, facciamo solo la porta, capito? Quindi creiamo un portone e un altro posto gigante con le mura? Magari se vede se ad esplorare trovi le bacche, e soprattutto ci lasci un po' in pace a me e ai consolini! Ci vado, appena sorge il sole parto! Allora, rubiamo un po' di grano, così mi preparo per il rumore diaggio! Non toccare il grano! Qual è quello pronto? Non è niente pronto, fai schifo in questa coltivazione, scusami, eh! Mangiano 300 di cibo ogni due giorni, certo che non c'ho nulla di pronto! E poi nel mio inventario è pieno di pagnotte, ma non te le do, quindi lasciami in pace! No, quelle non le ho perse, per fortuna! Il pane lo tieni ben conservato, che non si sta mai nelle tasche speciali e li tieni, capito? Fra un po' avrai anche le bacche nelle tasche speciali, Fere! Esatto, tutto sgobbato il cibo, perché puoi morire, perdere archi, armi, ma non il cibo! Il cibo mai, il cibo mai! Addio, Steph! Addio, Fere! Sto partendo! Stai partendo? Per un lungo viaggio non tornerò mai più! Ok, sei sicura? Sì, sì! Vabbè, fammi sapere se trovi qualcosa! Ciao, Fere! Allora, consolini! Comunque, ti dovrei far vedere una zona, perché qui vicino c'è una zona davvero bella, poi te la farò vedere! Ok, va bene! Parentesi! Io volevo dire due cose, prima di tutto abbiamo teoricamente tutto l'oro per creare il negozio, quindi aspettiamo che tornerà Fere perché non voglio farlo senza di lei! Fere, ti ho finito se per un po' metto un po' di letti fuori dalle abitazioni fin quando non creiamo la nuova zona? Allora, sono già fuori dalle mura, affacciati sulla destra, mi vedi già, mi vedi già! Fere, cosa vuol dire? Sei già tornata non appena l'ho detto! Esatto! Sei inquietante! O dono del teletrasporto! Eccola, guardatela saltando! Cosa devi fare senza di me? Dove devi mettere i letti? Fere, abbiamo bisogno degli schiavetti, Fere! Dai, non lo puoi fare, non mi puoi rovinare tutto! Cioè, io ciò mi sono stata impegna a fare tutte le case! E ma come facciamo? E poi li vuoi lasciare... Dai, vabbè, nel fossato li puoi mettere! No, allora però... Vabbè, dato che l'estate gli diciamo agli schiavetti che loro hanno un posto migliore, seguo i posti negli alberghi per avere la vista sulle stelle, per loro è quello! Voi siete meglio di quelli che hanno la casa! Così sono felice e lavorano un sacco! Guarda! Ok! Una, due, tre, quattro e cinque! Posso chiederti un favore? No! Puoi iniziare a lavorare per fare le prossime mura? Perché altrimenti qua siamo in crisi, Fere! Eh, non ho pietra! Allora, aspetta! Perché sono morto e ho perso tutto! E se noi creiamo due schiavetti che vanno a lavorare in miniera per la pietra? Ah, no, Fere! Che succede? Mi sa che la pietra non posso impostarla? Eh, vabbè, 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 vabbè! Credo, fammi vedere! No! Vabbè, dove sei? Aspetta! Che succede? Perché hai sempre i problemi? Non so cosa sia questo! Sarà qualche monovaco? Ah, no, l'avevo visto, anch'io non ho capito che cos'è! Non lo so! Non lo so! E poi, soprattutto, ok, noi abbiamo i lingotti d'oro, ma per fare le monette d'oro? Eh, sempre nella fornace! Non lo so! Allora, vediamo che cos'è questa cosa! Ah! Con questo creano le monette d'oro! Che non solo non vengono pagati, ma ti fanno i soldi! Esatto! I nostri chiavetto! No, vabbè! No, sono gli schiavi! Allora, aspettate che creiamo subito lo schiavetto che creerà le monette d'oro qua! Vai, schiavetto! Dov'è? È confuso! Dov'è? Si è messo a fare il giro della casa, quando... Ma dai! Forse è andata a dormire, eh? Nei letti nuovi? Li sono piaciuti i nuovi letti? Ma sta saltando, guarda! No, no, ok, sta facendo tutta la strada, tutto il giro tondo! Vabbè, schiavetto, un giorno ti spiegheremo quali sono le strade più brevi per... Adesso è serio? Io non ho parole! Stanno andando a dormire, Fer! Stanno andando a dormire, ah, vabbè! È stata dura la tua giornata di lavoro, eh? Un altro giorno scopriremo cosa succede quando creiamo le monette d'oro, però non è questo il giorno! Fer? Dimmi! Il grande giorno è arrivato, guarda il nostro schiavetto che crea l'oro! Guarda che bravo! Bravo, schiavo! Diventeremo ricchi, Fer! Guarda, siamo uguali! Perché a tutti e due piace l'oro e quindi siamo identici, guardaci! E gialli entrambi per quel motivo? Esatto, esatto! Ho capito, ho capito! Però la differenza è che lui crea l'oro e tu disturbi e basta, Fer! Allora, quanto ci mette? Eh, vabbè, è quasi fatto, è quasi fatto! Ci servono cinque monette e ne abbiamo due! No, io poi più che altro sono stracuriosa di vedere il negozio, cioè non vedo l'ora di vedere come funziona! Anche io! Ci sarà davvero qualcuno che ci lavora, secondo te? Credo di sì! Allora, ti devo dire una cosa, Fer! Dimmi! Io sto già lavorando, anche se è l'alba! Vai! Dimmi! Sentila come cerca di farmi pensare il fatto che lavora! Sì, sì, esatto! Allora, ho creato una nuova fornace! Ok! Ho creato un nuovo spazio da minatore! L'ho messo a lavorare l'oro! Teoricamente la nuova fornace creerà i lingotti d'oro e teoricamente lo schiavetto dell'oro avrà costantemente lingotti per creare oro tutto il tempo! Così diventiamo ricchi! Diventiamo ricchi! Quindi questa è la mia nuova tattica! L'ho messo a lavorare qua! Mi sono giusto dimenticato di mettergli una cesta e quindi recupero subito! Allora, tieni schiavetto dell'oro! Vediamo un attimino se ci va a lavorare, se è tutto ok! Opla! Perfetto! Ci va? Abbiamo iniziato il nostro piano per diventare ricchi in questo mondo! Allora, l'unica cosa che ci manca è un castello come si deve! È vero! Allora, dobbiamo iniziare a costruirlo! Allora, possiamo comprarlo, Ferre! No, non si può comprare qua, te lo devi costruire tu! Allora che servono i soldi, Ferre? Non so dove piazzarlo, sono indeciso! Io lo so, io lo so! Arrivo, 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 arrivo! Ok, allora lo decidi tu, Ferre, decidi tu! Qua, secondo me è bellina, la sezione del negozio, qua! Ok! Tutto questo spiazzo! Quindi vicino alla zona miniera, ma non è vicino al muro! No, anche qua! No, anche qua sta tipo di due blocchi staccato, tipo qua, guarda! Uno, due, tre, così! Eh, anche! Ok, perfetto! A questo punto creiamo un nuovo abitante che va a lavorare lì! Vai abitante, corri! È diventato rosso! Si è vestito! Il vestito rosso da mercantel ce lo vedo benissimo! Bellino! Perché lui fa i grandi affari! Ok, 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 ok! Chissà cosa tutto ci può vendere! Di sicuro ti può vendere altri semi di grano! Vediamo! Dovrebbe poterci vendere semi di bacche! E poi non lo so! Cioè stai vendendo al muro, scusami! Allora! Stai vendendo! Allora! Perché si è messo al contrario e ha dovuto rovinare la nostra scena? Perché? Aspetta, Fere! Aspetta! Guarda! Noi possiamo comprare il... Allora, i blocchi di erba! I blocchi di terra! I semi di grano normali! I semi di berry! Quindi le bacche! E poi i flax seeds! Ma cosa saranno i flax? Fere, non ne ho la più pallida idea! Fere! Dimmi! Credo che abbia creato almeno qualche semino! Abbiamo 10 berry seed! Oh, ce l'abbiamo fatta! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Allora, scegliamo dove piantarli immediatamente insieme! Ok, vai! Io li vorrei qua! Perché qua secondo me col grano non continuiamo! E quindi ci facciamo una bella piantagioncina di barre! Sì, 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 vai! Vado? Di bacche, vai! Tipo così! Oh, che bellino! Guarda che carino! Allora, facciamo così! Capito? Sì, 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 falli così, esatto! E l'avevo pensato anche io così! Perché poi, se non sbaglio, qua dovrebbe andare lo schiavetto delle bacche a raccoglierle, no? Esatto! Che bella! Allora, aspetta, 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 aspetta! Se io faccio il tasto destro e faccio Berry Farmer, ok, come l'ho imposto? Eh, ah... Ah, dovevi prima fare il... Eh, vabbè, sì, aveva anche senso, cioè, perché non ci pensiamo? Aspetta! Seguimi veloce, 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 dobbiamo fare un nuovo letto perché non abbiamo di nuovo più spazi! Cioè, abbiamo occupato anche già tutti questi, quindi... Mamma mia! Nuovo lettino e, teoricamente, adesso noi andiamo qua e dopo tutta una tortura incredibile, è stato difficilissimo! È stato lungo, è stato davvero lungo! Ce l'abbiamo fatta, guardalo, guardalo, ti prego non tramontare il sole perché voglio vedere prendere almeno una bacca! Voglio vederlo prendere almeno una bacca, ok? Ehi! Si ferma! Cos'era quell'icona, secondo te, Fere? Io non li vedo con le icone, che icona ha? Come se non ci fossero... Non è che gli devi dare un utensile? Non credo! Perché gli serve qualcosa per raccogliere le bacche? Scusa, scusa, perché dici che non ci sono bacche quando ci sono? Ci stai cercando di mentire? Te le sta mangiando, se le sta tenendo per sé, dice... No, qua non ci sono... Capito? No, non ce ne sono mai... Schiavetto delle bacche, non ci piaci! Dovevo, mi sa, lasciargli le bacche a lui, quindi aspetta un attimo, vediamo se così funziona! E per malosetto, cioè, vuole piantare lui, capito? Ma... Io non glielo date! Come ha fatto a piantare? Ah, perché ne abbiamo creato altri dieci! Sì, che bello! Ah, ecco! Sì! Però piantale in ora... Ah, ok, bravo! Sei molto ordinato! Pensavo già che le stesse piantate le bacche! No, ma adesso vedrai che le... E lo volevo licenziare! Ora le pianta dove vuole! Ora le pianta dove vuole! Preparati! Comunque te la butto lì! Appena saremo abbastanza ricchi, questo blocco lo usiamo anche solo per arredare! Sì, a voglia! Perché è troppo carino da usare nei giardinetti! È il blocco più carino del gioco, te lo dico! È davvero fantastico! Facciamo un labirinto di bacche quando saremo ricchi! Uh, guarda lui! Le sta prendendo! Le sta prendendo! Le sta prendendo! Direi di fermarci così per questo video! Speriamo che vi sia piaciuto! Siamo rimasti dentro quasi un'ora a giocare solo quest'oggi perché ci tenevamo ad andare un po' avanti a farvi vedere davvero queste bacche! È stato difficile arrivarci però ne è valsa la pena! Sono troppo belline! Sì, sì! Non danno tanto cibo però sono carinissime! Beh guarda lasciano anche un po' di spazietto qua! Sono proprio intelligenti! Guarda che bello! Guarda che bello! Bravissimi! Le metti in ordine! Sì, bravissimi, bravissimi, bravissimi! Quindi tra questo episodio e il prossimo noi nerderemo un pochettino! Non credo che riusciremo a fare a partiti scherzi tutto quello che abbiamo elencato! Ma cercheremo di fare il più possibile! Quindi preparatevi perché il prossimo episodio sarà super mega epico! Quindi ci fermiamo così lasciate tanti like per supportare la serie! E ci vediamo domani! Però è che se non è così si è tutto! Sieteci un bel like! E' sempre una volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao! Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.